Ciao a tutti e bentornati con Gridfall, portiamo questo poveretto qua dopo che l'abbiamo salvato dal suo cugino prima che sia tardi va Tavolo da lavoro non ci interessa, convoca i compagni, viaggia, dormi, no va bene dai Beh oddio, dormire quasi quasi per riposare un po' la vita eh Dai qua, tramonto, vediamo se recuperiamo vita Sì, l'abbiamo recuperata, perfetto Control per tirare i calci come ci ha consigliato la nostra amica Benissimo Forza Nuova serena Dai, dai che voglio fare anche la quest di Reinar Quante robe ci sono in questo gioco Prego, prego Pure Pure Si 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 può fare Ah Ok E questa ragazzi è fatta, questa quest è fatta Poi Incontro a Ullan, il capo di... eh vabbè ok No Indaga alla taverna Vediamo che viene fatto sto povero ragazzo Perché l'hanno concierto così poveretto, ha fatto incazzare qualcuno? Questa volta Questa Continent. Do you know what I mean? I do. Anything else? Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah. Yes, sir. Recruit Second Class Alrick, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? Do you know a recruit going by the name of Rainer? Rainer? I... It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That would be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Bottiglia di brandy. Ok. Una bottiglia di brandy per il cazzone? Dai, va. Una bottiglia di brandy. I'm looking for information concerning a young recruit going by the name of Rainer. Sorry, there's nothing but soldiers here. With a few sailors. Well, one recruit or another? It's half a dozen of one, six of the other to me. You should just try to talk to them yourself. You got yourself quite a selection. Ok. Comprehensible como discorso lei. I've heard there are some interesting activities down in the basement. Sì, l'arena. Well, that would be news to me. It was a friend of mine who told me about it. A friend who loves his cards. If you're also a player, then yes, it might be something you'd appreciate. You'll even find pleasant company as well. If you're feeling alone and have some coin to part with. Cioè, oltre all'arena c'è anche un troiaio praticamente giù. Bene, dai. Sì. Tanto lo offriamo, non c'è un problema. At your service, milord. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that... I don't know if I'm allowed. If you're a slave or you wouldn't be at the Tsaven. Then why not? Yes, but this is his excellency's own bottle. I don't know if I can. Bevi, maledetto. Now then. Why don't you tell us what you know about Rainer? Oh, I didn't. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, uh, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Rainer, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you? He won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. We don't want you to fall into the bay. Oh, cavolo. Thank you. Thank you, your excellency. Prego. Ma allora, tutti gli altri di interrogare? Tutti superflui? Abbiamo avuto il culo di prendere il primo, noi. Ah, vabbè. Affronta il tenente dell'ondicesimo reggimento. Eccolo qua. 23 metri di qua. Quindi mi sa che dobbiamo andare... No. Beh, forse di qua in realtà. Vediamo. L'infame vi è per di qua, eh. Infame. Eccolo qua. Eh. La verità. Solo la verità voglia. No, ti spacco la faccio, adesso. No, se non l'avete, hai un capitano davanti. Sì. Sì. Ma questa storia è pericolata, capitano. Se hai tanto tanto di spettacio per i bambini, pari a noi. Non credi che ha dettagli la giustizia? Sì. Ovviamente. Reina era davvero un membro di un compagno e un recruttore ottimo ma già sai questo un giorno ho avuto una notte che mi ha detto che è stato trasferito da un compagno ha ricevuto un nuovo servizio ero così fiori che ho fatto un po' un'investigazione per vedere dove è stato sentato non è facile nessuno ha chiesto di dare me rispondere nessuno ha visto nulla ma una cosa è sicuramente che è? ma incredibile ho capito mamma mia ragazzi questa faccenda ci sta facendo intrigatissima ok 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 va bene grazie grazie cosa c'è qua robe da pigliare compate ragazzi compate wow ricorno usato bene io e lei dobbiamo parlare sia lì che intanto qua piglio un po' di cose ma dopo parliamo bene bene no 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 e pensi a curta adesso eh già no, le ho potesse nemmeno uno è abbastanza no, le ho potesse 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 a questo punto di domanda qua sopra che cos'è bene che non sia ancora più sopra vediamo magari eh sì è ancora più sopra chi c'è qua chi è costui ah lui oh yeah non è bene non è bene vero vero ma no beh beh indaghiamo su questo qua dai bene no no, grazie tutti i dialoghi li mi ha fatti per cui perfetto c'è qualcosa da prendere qua più che altro da derubare no? niente peccato chi c'è qui dentro? chi c'è qui dentro? è maestoso questa reggia eh guardate qua che bello è proprio grande eh chi va là? qua c'è un oggetto chiave dell'ufficio di Constantine uh cosa fa? scopriamo gli alterini del nostro cucino ragazzi usa chiave io non ho la chiave ah no non è quella lì che abbiamo preso no? vabbè ma allora la chiave che abbiamo preso dove porta? non cosa fa? Sei impazzito Ma Constantine non ci dice niente Che siamo entrate A scurriusare nel suo ufficio Ma evidentemente no Meglio così ragazzi va Constantine parliamo della missione principale Delle rovine Ovviamente Immagina Ah no no Aspettate Ok Siamo iniziati a stoppire la scuola di Alianza e il clano di Siora. Si arrivano in la città in battle field troppo tardi. La Queen si è fuori. Mi sono molto scopo per la perdita, Princesa. Grazie. La mia sorella è successa, fortunatamente, e stiamo riconoscendo da questa tragedia. Ma il nostro clano è stato molto forte da questa battaglia e da recenti eventi. Siamo attraverso un attenzione per la Bridge Alliance e il loro attacchi. Rest assurati. Deve sapere che la battaglia è stata in mezzo di ruinesi antichi. Le ruinesi sono molto strani. Abbiamo scoperto una fresca che mi sono sicuro è stato creato da Continental Hats. Sì. E come le ruinesi antichi sono? Sì. 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 Laia troppo furba, laia una volpe Laia troppo furba, laia una volpe La cosa più piccola potrebbe tirare la balanza e portarci a loro conflitto Se posso offrire qualche consiglio? Sei molto attivo Non vogliamo una guerra qui fuori Ok Laia troppo furba 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 La terra è ancora più alta e ricca Il sui sui sono pieni di minerali alcuni che non conosciano Con riguardo alla flora e fauna Probabilmente avete visto quanto diversi le creature e le planti sono qui I islandi proteggono la terra E non possiamo l'embracare Quando vediamo ciò che abbiamo fatto con la nostra propria Beh Una sorta di ricche attraversa Laia troppo furba 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 Poi cinque anni fa C'era un port Una fonte La città La bambina La bagraglia La palia E tutte le tue Le jotka Gr strategiciche Sperren kia Sì. Sì. D'aiuto io. Sì. No. Siamo a posto direi. Qua è la vecchia miniera. Eh vabbè. Casa mia. O almeno credo sì. Un oggetto qua. Vediamo. Cassinamento livello 3. Ehi vabbè. Buonanotte. Passiamo giù un po' di cose inutili. Vediamo un attimo. No. No. Questo qua è il migliore che abbiamo eh. Tutta roba migliore. Rafta. Sarva tieni. Paule. Qua ci hanno detto un sacco di cose praticamente. Agilità 2. Bene. Bene ragazzi. Noi qui chiediamo la puntata. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.